www.telemolise.it In particolare nel centro-sinistra Massimo Romano punta su due liste civiche e resta lontano dalla sua coalizione, mentre il PD rilancia le primarie. Allora sentiamo in apertura Giovanni Minicozzi. A distanza di poco più di due mesi dalle prossime elezioni, resta ancora confuso il quadro politico regionale con il centro-sinistra che cerca l'unità della coalizione e con il PDL che si divide tra Ex-AN ed Ex-Forza Italia, mentre l'Udc resta alla finestra. Di certo però Michele Iorio, Polo Fratture e Antonio Federico hanno già cominciato la loro campagna elettorale, a prescindere dai giochi delle alleanze. Massimo Romano da parte sua cresce a vista d'occhio e punta su due liste civiche, una di destra affidata a Gianluca Cefaratti e l'altra di sinistra messa nelle mani di Filippo Monaco. Su quel versante politico sono in molti a sollecitare l'unità, ma pare chiaro che se il centro-sinistra dovesse riconfermare la candidatura di Polo Frattura, Romano e i suoi amici metterebbero in campo il quarto Polo. Il candidato presidente verrà scelto da tutti i soci che hanno sottoscritto il manifesto per cambiare davvero e se toccherà allo stesso Romano, secondo indiscrezioni, l'esponente di costruire democrazia si candiderebbe solo per il vertice della regione, senza il paracadute del proporzionale. Intanto Romano ha chiuso l'accordo a livello nazionale con gli arancioni di Luigi De Magistris e con i liberali di Oscar Giannino, con l'obiettivo dichiarato di candidare altri esponenti dei suoi movimenti alla Camera e al Senato. Insomma, lui fa sul serio. Il PD invece insiste per unire tutta la coalizione e per farlo prova a rilanciare le primarie alle quali potrebbero partecipare Paolo Frattura, Massimo Romano, Giovanni Di Stasi e Antonio D'Ambrosio. Il tempo stringe, ma Danilo Leva e Roberto Ruta credono di farcela e puntano sulla data del 13 gennaio anche per scegliere con gli iscritti del partito i candidati al Parlamento.